Buongiorno signor Giorgio Matteucci, vicepresidente di Progetto Assistenza. Mi spiega cos'è il Progetto Assistenza? Progetto Assistenza Franchising è una rete nazionale di franchising che accorpa in sé agenzie che si occupano di servizi integrativi e sostitutivi alla famiglia per assistenza sia domiciale che ospedalera, rivolte alla persona anziana e o anche non autosufficiente. Il Progetto Assistenza nasce nel 2011, però ha alle spalle un'esperienza confermata dal sottoscritto e dal Presidente di oltre 16 anni nel territorio toscano.